come l'ha affermato bene e non ti molla mi guarda ti l'ha portato via a lei adesso va con le bagliere duro no no, l'ha tirata giù e glielo sta tirando dall'altra parte vai a guarda vai a guarda sorridi dolce? se sorridi per il pacchetto le varie a bere con il pacchetto si blocca l'altro giorno tutti e due non guarda niente non guarda niente siamo allo sgamba al corretti no no, siamo qua c'è anche la Mara la Angela, Mauro, la Pamela